Rispettata la tabella di marcia, nonostante le ferie è ormai completo l'80% del trasloco della Regione Puglia iniziato a luglio. Obiettivo spostare 630 dipendenti dalle sedi decentrate alla nuova casa regionale del quartiere Iapigia. Abbiamo trasferito fino alla metà di agosto circa 500 dipendenti regionali. Sono ripresi i trasferimenti che andranno avanti orientativamente fino alla metà, forse il 20 di settembre. L'accesso agli uffici però resterà chiuso ai cittadini fino a metà settembre a meno di urgenze e servizi necessari come il pagamento dei bolli automobilistici. Persino le visite dei giornalisti al momento sono bloccate. Alla stampa noi vorremmo, diciamo se fosse possibile, presentare la sede nel momento in cui sarà effettivamente visibile il suo funzionamento. In compenso sono già operativi quattro dei sei assessorati da trasferire, sanità, servizi sociali, bilancio e sport. All'appello mancano metà degli organici di trasporti e urbanistica. Gli altri assessorati resteranno al loro posto in immobili di proprietà. Addio invece ai costosi affitti, 6 milioni di euro l'anno per la Regione, di 5 dei 7 edifici occupati a Bari. Insomma, tutto è pronto per un salto di qualità, ma prima di apprezzarne i vantaggi ci vorrà tempo. Il personale dovrà imparare attraverso corsi ad hoc, la gestione informatica dell'archivio, vanno migliorate logistica interna, pulizie e soprattutto i collegamenti. La Regione sta lavorando su un progetto che vede la rimessa in funzione della stazione delle ferrovie dello Stato che è qui dietro. Nelle More stanno lavorando con Amtab per un rafforzamento delle corse che passano di qui.